Il Carnevale, siamo qui a San Michele di Bari, lo abbiamo seguito per diversi anni, siamo legati a San Michele perché lo abbiamo anche trasmesso in diretta, ricordiamo i festini, delle belle iniziative organizzate dalle diverse associazioni e da chi proprio sta qui all'opera per realizzare quello che sarà un carro per la sfilata del 26 febbraio, è la 19esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. 19 edizioni significa che sono trascorsi un bel po' di anni e come si fa a mantenere vivo lo spirito per poter continuare ad andare avanti e ci dobbiamo augurare di festeggiare poi alla grande 20 anni, la ventesima edizione. Ci vuole molta buona volontà, molta pazienza, una passione innata per il Carnevale in genere, anche se io ho sempre avuto un certo distacco dal Carnevale dei festini perché purtroppo non l'ho vissuto da ragazzo. però con il Carnevale dei ragazzi sono ritornato appunto ragazzo, bambino e questa passione che avevo da bambino che poi non si è sviluppata appunto nei festini l'ho portata fuori i festini quindi in piazza e per le strade di San Michele. Ecco, mentre noi realizziamo questa intervista gli altri amici sono all'opera e li ascolteremo, vedremo che cosa stanno realizzando, chi è stato coinvolto quest'anno? Beh, ovviamente il Carnevale dei ragazzi è organizzato dalla parrocchia di San Michele, Santa Maria del Carmine, partecipano tutti i gruppi parrocchiali, quindi questo è già una base di partenza, cioè di tutti i ragazzi che partecipano al catechismo, a CR, a Scala. Salutiamo il parroco. Salutiamo Don Nicola Mastandrea. Quindi è sensibile a queste iniziative, fa piacere. Sicuramente, lui l'ha continuata perché questa nasce appunto con un altro Don Nicola, Don Nicola Boccuzzi e poi è continuata in questi anni, i parroci si sono avvicendati fino alla venuta di Don Nicola Mastandrea che ha continuato la tradizione e mi ha coinvolto nuovamente anche quest'anno per organizzare, diciamo, coordinare le attività. Questa 19esima edizione, quindi i ragazzi sono coinvolti, la parrocchia. Non so, sì, la parrocchia in primis. Quest'anno poi abbiamo anche, credo che abbiamo raggiunto una certa notorietà, tra virgolette, cioè alcuni festini mi hanno contattato, vorrebbero partecipare. Io fino a quando non vedo, non credo, sono come San Tommaso, però devo dire che le prospettive sono buone. Mi hanno contattato anche, mi ha contattato anche una scuola di danza, non ricordo il nome, devo prendere, cioè mi dovrebbero chiamare in questi giorni perché vogliono partecipare. E addirittura è ritornato a partecipare a questo carnevale un noto rappresentante del carnevale San Michelino, dei festini di San Michele, il signor Nuccio Milillo, detto Nuccio Giardine. E' qui, è qui, casualmente è qui, passa proprio di qua, casualmente. Ho fatto per tanti anni il caposala, non so, sono 27-28 anni di caposala. Un minimo stop, perché quanti ragazzi, ci sono anche i bambini che ci ascoltano, caposala, uno sente il caposala, dice chi è un comandante, che fa il caposala? Caposala, comanda i festini. Ma comanda a bacchetta o no? No, no, non c'è il comandante, come andrà il festino, si balla, si fa tutto, nei festini, si va per divertirsi, per ballare, per fare delle scenette, per fare tante cose. Poi vengono le maschere, le compagnie, entra, si fanno ballare, 3-4 giri ogni compagnia, esce quella compagnia, entra l'altra e si... E vabbè, ma stiamo a dimenticare le rime. Vabbè, le rime si fanno, chi se la sente di fare una rima, esce da dentro e fa la rima. Eh, invece le rime li fanno quelli che stanno dentro al festino, li fanno il caposala, li fanno i conduttori che vengono con le maschere, qualche maschera pure. L'assenziale è che si divertono tutti, ci divertiamo noi, ci divertono i maschere, e si ballano, la sera si inizia verso le 9, potresti che arriviamo pure fino alle 4-5 la mattina. E poi facciamo un caffè, un cappuccino e andiamo a lavorare, che si fa, va a dormire. Sette anni l'ho fatto a girasolo il caposala, gli ultimi sette anni. No, ma noi gli ultimi sette anni sono proprio brevi, andiamo un po' più indietro. A che anno dobbiamo andare per andare indietro? Io iniziai nel 62. Ecco, raccontiamo nel 62. Che cosa avveniva nel 62? Prima i festini si facevano in casa, non è che si prendeva un locale, in casa, un'altra c'aveva dei figli femmini, e allora cosa faceva? Per sposare i figli, perché le figlie, allora metteva il festino alla casa, i mobili stavano in mobili, si mettevano in una parte, e si facevano lo spazio per ballare. Ma erano festini di 20 persone, 30 persone, 40 anni. L'ambito della famiglia, gli amici. Si invitavano, e si andavano avanti così. Allora stavano 20 festini, 15, 20, 25. Beh, un bel numero. Eh no, perché ballavano tante persone. Ognuno ci veniva il dia a sede di ballare, allargava la casa e si ballava. Ecco, il ballo più comune qual era all'epoca? A noi stavano per la maggiore, il waltzer, il tango, la mazzurca, la quadriglia. Se mi togli il waltzer, il tango e la mazzurca, io non ballo più. E la quadriglia, non è bella la quadriglia. Che piace molto ballare, la mazzurca, il tango e il waltzer. E poi tutta anche la polca, anche le altre brano. Però a noi che siamo vecchi, invece balla di adesso, piace ai giovani. Sono più da discoteca. A noi magari non piace. Siamo partiti dal 62? Dal 62, ho iniziato io. Poi quando sono diventati più organizzati? Quando iniziai io pure. Perché il primo festino grande che abbiamo fatto a San Michele, poi io, alla Sala Mariolina. A Via Rossini, quella sala la fece Filippo. Di che anno parliamo? Sì, 72, 73. Non ricordo bene perché tutti gli anni ho fatto dei festini. Sono stati tre anni in quel... Fu il primo festino grande a San Michele che fece in quella... Diciamo, chiamiamolo, perché lui la fece per la Sala. Prima qualche matrimonio ci andava a fare in questa Sala Mariolina. Fu fatto per quel fatto, perché prima non andavano i matrimoni alle sale come vanno adesso. Pure in casa ci stavano facendo i matrimoni. Sì, dove hanno nascosto le fotografie che abbiamo visto prima? Queste mettiamo in una... Questo sono io, vedi? Mettiamo questo. Che cosa stai impersonando qui? Che personaggio è questo? Questo fa lo spoliarello. Ah, ho capito. Sì, sì. Questo faccio... Come faceva... La... Che faceva? Balbuzzietto. Balbuzzietto. Questo rappresenta Reagan. Reagan. Diciamo, questo è l'antesignano del carriere dei ragazzi. Ogni tanto a San Michele qualcuno organizzava dei carri e si girava per il paese. Però, diciamo, noi... Poi fu abbandonato e noi l'abbiamo ripreso nel 1999. Questa tradizione, diciamo, l'abbiamo ripresa, chiamandola Carnevale dei ragazzi. Questo è il gioco della bicicletta. Insomma, che... Io sono questo qui. Sì. Vedi? Non scopo. No, no, questa è mia moglie, che è un maschio, questo pure. Però, parla mia moglie. Io sono il vecchio, che sono il marito. Con il bastone. Sono questo. E dovevi andare in bicicletta. Che figlio. Che figlio. Io che poi esco con le parole, tutti i dialetti di San Michele. Diciamo, la mia moglie, l'angelo di tanto di chi... E poi, diciamo, il nostro figlio dove sta? Diciamo, è andato via. E lui, che bagnata, perché diceva, ci baggeranno, tu stai sempre fuori. Pure lui. Insomma, oltre al ballo, oltre al waltzer, al tango, alla mazzurca, ogni tanto c'erano questi spazi. Sì, ogni tanto io... Per divertirsi. Per divertirsi. E quindi, per fortuna, che ci sono le nuove generazioni che stanno aderendo a questo carnevale dei ragazzi. Se io vado, sto in un festino e chiamo un ragazzo giovane, che dice, vieni, faremo un gioco. Il successo è da tanti anni che... Non sanno di questo. No, dice, chiama quell'altro, dice, ma io non sono... Chiama l'altro, dice, ma non sono più ragazzi che vogliono aiutare, vogliono vedere questi giochi che facciamo noi. Questo è quello che dice, un menù, un circandurino. Un circandurino. Questo è un gioco che non si capisce, è vecchio. È un gioco che io faccio, sono la moglie, mio marito va al bosco, lavora al bosco, insomma, succede un bacio. Può sentire malato, poi facciamo un'operazione, tendo al festino. Vieni il dottore. Sono diverse scenette, certo, ma sono molte, ma è cambiato adesso. Adesso, questi giochi non si fanno più. Non si fanno più, si sfila con i carri allegorici, i gruppi mascherati, anche le scuole partecipano. Beh, è un tasto dolente questo, perché io non me la prendo con gli insegnanti o con il dirigente scolastico, perché si dovrebbe presentare un progetto iniziale a scuola intorno a settembre. E loro hanno tante attività da fare, quindi è difficile poi che riescano a inserire nell'attività didattica anche il carnevale dei ragazzi. Quindi anche quest'anno non ho insistito nell'invitarli, anche se ho saputo che qualcuno aveva intenzione di partecipare, poi per un motivo che non sto qua a specificare hanno desistito. Però l'intenzione c'era e questo è un buon punto di partenza. Ma per i vent'anni bisogna festeggiarle con le scuole, anche, devono partecipare. Andiamo a vedere chi concretamente poi lavora. Se vuoi ti faccio partire dal maestro cartapestaio, poi è lui che ti deve illustrare. Dove andiamo quindi? Andiamo qui davanti a noi, vediamo il maestro cartapestaio Filippo Lagravinese che con suo figlio... Cosa sta facendo Filippo? Noi stiamo approndando il carro dei puffi. Il tema di quest'anno è la raccolta differenziata. Quindi anche voi farete il porta a porta? No, non facciamo il porta a porta. Noi facciamo il carro della raccolta per incentivare, per sensibilizzare l'opinione pubblica a fare la raccolta differenziata. Questo che cos'è insomma? Perché vediamo solo del ferro zincato insomma? Esatto, questo è solo l'intelaiatura, l'anima, poi viene tutta rivestita. Dovrebbe essere alla fine Gargamella. E' il personaggio che rincorre sempre i puffi, il cattivo dei cartoni. Che dovrebbe lasciare l'immondizia in campagna. Ai 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 ai. Voi rischiate che vi sequestrino la... I puffi fanno la raccolta differenziata, mentre il signor Garganella, ecco, il cattivo... Questa è l'interlagliatura, lo scherzo, poi qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo è il rivestimento di carte, di giornali... Poi passiamo alla pitturazione, alla decorazione, che succede? E poi interviene il signor Franco Spinelli come pittore e comincia a pitturare la struttura. La lasciamo al suo lavoro e ci spostiamo dall'altra parte. C'è un giornale preferito o tutta la carta va bene? Tutta la carta va bene, no, no, soprattutto i quotidiani vanno bene perché per loro... Noi andiamo bene, noi facciamo settimanali, quindi non abbiamo questo problema, il nostro giornale non sarà toccato. I quotidiani vanno benissimo, ma anche perché noi siamo più che altro prodotti che possiamo riciclare. Comunque anche prodotti molto economici che non incidono molto sulle nostre finanze. E quelle palle, va, che sono queste? Questo è il principio di una scarpa. Ah, è una scarpa? Sì. Ovviamente prima Filippo mi ha detto che poi la mano passa a me, però io ho il terrore che a lui la cosa non piaccia e la sera dopo me la vedo disfare. Cioè quando si va via la sera si ritorna il giorno dopo e non si ritrova più la scarpa? Di notte disfa tutto e mi fa trovare una cosa... Sì, molte volte non lo è. E io lavoro sempre con questa paura... Non è meglio farglielo vedere prima? Noi vediamo spesso le tribune politiche, no? Se le dicono di tutti i colori. E questo dicono, cambiano le amministrazioni, uno costruisce l'altro distrutto. Devo dire che quest'anno sono migliorati tantissimo. Loro? Ah, meno male. Adesso sto... Sto... L'ho detto troppo buono. No, 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 no. Sto dando carta bianca. Qua l'avevo colorata. È colorata però... Sto dando bianca. Sto... 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 Anzi, tu già... Sto lasciando fare. Sto lasciando fare. Qua la carta è già scritta vuol dire che bisogna seguire alla lettera ciò che è scritto o no? Ma no, no, anche perché... Sto lasciando fare. Anche perché non abbiamo neanche il tempo di leggere ciò che è scritto sul giornale, quindi... Quindi... Il tempo è limitato, quindi... Dobbiamo cercare di... Sì, ma per esempio la misura della scarpa, se non va bene, che misura? Ma deve essere anche una misura un po' spoluzionata. Anche al pupazzo stesso, perché se fosse proporzionata, almeno secondo me... Di che stiamo parlando? Di che pupazzo? Di un puffo. Ah, questo è il puffo. Questo dovrebbe essere lo scarponcino di un puffo. Ecco. Cioè, una scarpa grossa... Sì, vabbè, è chiaro che nel mondo dei cartoni animati nulla è regolare, insomma. Qualcosa viene anche... Un po' di fantasia. Un po' di fantasia bisogna mettercela pure. Io, ripeto, sto facendo questo lavoro qua con la paura che domani sera vengo e mi ritrovo queste scarpe bruciate via, strappate e rifate. E' questo rischio. Sì, succede. No, non è un rischio, è una realtà che purtroppo... Però, siccome noi siamo un gruppo molto, molto coeso, molto compatto... Però, io posso dare un consiglio. Prego. Lei, le finisca subito? Sì, sì. Cioè, colorate così diventa più difficile poi distruggere. No, no, non ci penso due volte. No, no, no. Infatti, gli stiamo vogliono perdere i pezzi. No, no, però mi permette, vorrei scagliare anche una lode in più a quel signore che è interessato prima, Nuccio Giardino, perché lui si è dimenticato di dire che è un grande inventore di barzellette. Eh, però non ne ha raccontato nemmeno una. No, ma più che barzellette sono scenette che lui tante volte ha trasmesso anche in una radio privata che avevamo qui a San Michele. Adesso le sue cassette sono sparse praticamente in tutto il mondo, tutti gli emigrati di San Michele le hanno richieste, praticamente si trovano un po' dappertutto. Non so se lui le ha ancora, però sarebbe bello riascoltarle quelle barzellette che lui faceva, lui era il principale interprete, poi aveva anche altri amici che li collaboravano vicino. Ed erano delle belle scenette che si trasmettevano in radio con un programma che si chiamava Il Giardino del Liscio. Onore al merito, ritorniamo alle nostre scarpe, adesso qui si è fatto bene, queste verranno adesso pitturate, che succede? No, queste adesso verranno rivestite di carta scottex con la carta bianca lì, con colla che è un misto di farina e acqua. Preparata al momento. Preparata al momento e poi una volta che domani sera quando sarà asciutta la colla le verniceremo e le attaccheremo ai puffi, sperando che ci rimangano, se il nostro maestro. E quest'altro signore che è alle mie spalle, qual è il suo compito? Qual è il suo? Manovalanza. È manovalanza come la mia, cioè io veramente sto sempre dietro alla macchina fotografica, quasi niente faccio io. Manovalanza. Dalle nostre parti dicono un ragazzo, un agno dell'uptake e lui è così, come si diceva questo a Michelino. Un agno dell'uptake. Il garzone, diceva, il garzone. E lui è un garzone. La prima esperienza? No, è il secondo anno che seguo e continuo, sì, come mi piace, è una cosa che va avanti e quindi... Qual è il suo compito? Niente, stiamo riproducendo... Vediamo delle scatole, che sono queste? Non è altro che stiamo riproducendo i bidoncini... Ma la cosa è differenziata? La cosa è differenziata, sì, noi... E questi sono colorati? Eh sì, adesso li dobbiamo colorati. Sono enormi? Ci hanno l'anticane, l'anticatto? Eh sì, dovremmo cercare di fare qualcosa, però noi abbiamo cercato di riprodurlo, cioè adesso non sono finiti ancora, dobbiamo ancora fare altre modifiche, quindi... Ma uno è più piccolo, perché? Eh sì, perché sono diversi. Per l'organico? Eh sì, quello è per l'organico, poi l'abbiamo fatto per il vetro e per la carta. E la plastica? E la plastica, invece, si usano le buste, quindi non serve il bidoncino. Senso contenitore? Senso contenitore, quindi useremo... Cioè sarà poi il gargamella che avrà la plastica, la busta, quindi... Chi è questo gargamella? Gargamella è il cattivo! È sempre quello... Si vede che tu sei grande come me, i buffi non li conosciamo. Diciamo, questo carro lo chiameremo Pufferenziando. Quindi il titolo è questo. Il titolo è prettamente legato alla raccolta differenziale. Siamo sul pezzo, siamo sul pezzo. Ma è chiaro che noi siamo fuori a un discorso politico, il nostro è un discorso ecologico, più che altro. A prescindere... Da un punto di vista economico, a costo zero. Beh, noi sì lo facciamo a costo zero, perché non ci rimettiamo. Mi so che le bollette dell'Atari, questo è un altro discorso. Questo è un discorso che non vogliamo affrontare. Lo affrontiamo, va bene. Noi siamo, diciamo... Questa cosa verde, che cos'è? Allora, questo in pratica è un... Chi l'ha fatto questo? Sempre noi, insieme, diciamo, l'abbiamo fatto. Ognuno ci mette nel suo. È un albero. È un albero. Questa è la chioma dell'albero. È il tronco, ecco, e qui c'è il tronco. Ah, perfetto. Sarà montato. Adesso siamo ancora a livello embroneale. È come un puzzle, poi viene sistemato. Eh sì, ma perché se vedete qui il soffitto è basso, diciamo, quindi abbiamo bisogno di farlo in pezzi. C'è la chioma che deve essere ancora rifinita. E per questo devo dire una cosa. Allora, quest'anno è l'anno dei ritorni. Che significa l'anno dei ritorni? Significa che per un periodo, un certo periodo di tempo, l'ex presidente Lorenzo Moschetti, che sta arrivando, mi dicono che sta arrivando, aveva abbandonato, diciamo, il gruppo ed è ritornato. E la sua mano ci voleva e si vede perché ha cominciato a rifinire i nostri pupazzi, che noi gli davamo una pittura abbastanza sommaria. C'era anche la figlia di Filippo, Giovanna Lagravinese, che si diretta perché frequenta la scuola d'arte, diciamo, e quindi lei ogni tanto si dedicava, quando aveva tempo, a rifinire con i suoi pennelli i nostri pupazzi. Quest'anno c'è stato un gradito ritorno, come diceva, e qui si dice l'upus in favola, è arrivato e quindi te lo posso lasciare? Il signor Lorenzo, sì. Fino allo scosto anno che Lorenzo non c'era, Franco era bravissimo a pitturare. Chi è Franco? Ma lei rimane bravo. No, era una cosa. Ma lei sa, a carnevale, ogni scherzo va. Adesso, come arrivate al maestro? Franco passa in secondo piano. Secondo piano. Prima di passare al maestro pittore, con la P maiuscola, perché Franco è con la P minuscola, però devo spezzare una lancia nei confronti di Franco. Franco è una persona umile, e lo dico col cuore, e qui mi emoziona a dirlo, che partecipa a tutte le manifestazioni di San Michele e non compare mai. E questa cosa a me fa male, perché non viene apprezzato per quello che fa. Quindi io adesso dico, Franco è un grande di San Michele, e se lo ricorderanno quando lui a 150 anni morirà, se lo ricorderanno, perché ha partecipato a tutte le manifestazioni e non compare mai. E questa cosa la devo dire. Noi tocchiamo ferro zincato. Sto comparendo adesso, che vale per tutte le volte che non sono mai comparso, vita mia. Noi andiamo da Lorenzo, che sta prelevando acqua. A chi io stai permesso, al proprietario, che qua è tutto sotto controllo, non sfugge nulla, mi dicono. Bentornato. Abbiamo visto Facebook, col pennellino all'opera. Queste sono le cose di Piero Rest. È vero, a lui piace questo. Sì, a lui piace di mettere sul baffetto. Ritornata la fiammella, la passione, si rivivono delle emozioni. Il proverbio più vecchio fa, uno è più ritorno a bambino. Cioè, io sono stato quello che il 1999 ho voluto, dai festini che venivano organizzati a San Michele, alla sfilata in maschera per i bambini. Però ciò che io intendevo, che volevo da allora, era la sfilata in maschera, ma non i carri. Io ammetto. I gruppi mascherati. I gruppi mascherati, perché così non c'è divertimento. La cosa che noto io, sì, i pupazzi sono belli sui carri, cosa succede? Per me, io la vedo così. Perché la cosa che noto io, magari questi anni, si intendeva fare di più magari i carri. Io lo sai cosa vedo in questa cosa, come se aumentano i carri e diminuiscono le persone. Perché? Perché una famiglia, la madre, il padre, il zio, i nonni, vestono solamente i piccolini, escono di casa. Allora tutti i bambini vestiti a maschera, i grandi, nessuno. E io, lo sai come vede questa cosa? Una processione. Invece io voglio che devono diventare i gruppi mascherati. Allora la mamma, i zio, i nonni, si devono vestire insieme ai bambini. Anzi, la cosa che dico io a Piero Resto, perché io non sono capace su Facebook, non ce l'ho, non sono capace a vedere questi cose. Io vedo solamente il telefono. Che poi è Zorro. Vabbè, Zorro. La cosa che dico a lui, su Facebook, metti, cosa stiamo facendo quest'anno? Cosa hanno voluto fare? Ma vedo che scrive su Facebook, sono tutti i giorni. Tutti i discri. E' di nuovo, esce. Allora, dico a lui, tu cosa hai progettato quest'anno? La famiglia dei, come si chiama? I puffi. I puffi. Allora la cosa che dico a lui, incentivi le persone a San Miguel di dire, insieme ai carri dei puffi, si devono vestire i puffi, devono diventare le persone vere. Sono una vista puff. Tutti devono partecipare. Tutti devono partecipare. Coinvolgere un po' tutti. Sì, sono una cosa che si può studiare, perché secondo me ci sono vestiti insieme al bambino, il genitore, la mamma, secondo me i bambini si divertono di più. Piano piano, questa mentalità sta entrando nel San Michelino. E devo dire che da tre anni a questa parte la partecipazione con un cappellino, con una trombetta, con un vestito da carnevale, anche l'adulto ha cominciato a partecipare. E non è più un accompagnatore, ma un partecipante attivo. La nostra sfilata è diversa da tutte le altre del circondario, perché non si sta a guardare. Cioè non ci sono le transenne e tu guardi. Non si paga. Non c'è una tassa di iscrizione. Non c'è una tassa di iscrizione. Sì, se ci finanziassero con un qualche ente sarebbe gradito, perché faremmo qualcosa ancora di più grande. Però lasciamo stare il discorso economico, lo facciamo con il cuore. Se ci rimettiamo qualcosa... Non è autodidatta, diciamo. Sì, diciamo la parrocchia deve essere comunità. Nessun ostacolo. Benissimo. Se lo fa per soldi comincia a inclinarsi il meccanismo. Allora noi come simbolo diamo ogni anno i coriandoli, diamo i fischietti. Non facciamo pagare niente a nessuno. È chiaro che non sono migliaia. Quest'anno saranno circa 1.100-1.200 sacchetti che io personalmente ho imbustato. Siete, devo interrompere un attimo, perché l'anno scorso è stato, vero? È stato l'anno scorso. Ci siamo visti l'anno scorso. Quando siamo rientrati, abbiamo riempito tre buste di coriandoli. Quando ci siamo tolti i giacoli. Ora io mi spiego, dove vanno questi coriandoli? Nell'indifferenziato, nella carta, dove andranno? E perché noi avremo il problema di smaltirli. Questa cosa l'ho pensata, porca miseria. Quindi ci credo che distribuite tutti questi coriandoli. Ti sei accorto che Lorenzo ha sfruttato l'occasione e se l'è sfilata? Ci doveva dire, prendi tutto, perché lui ha detto che bisogna vestirsi, bisogna indossare una maschera, qualcosa. E quindi il signor Lorenzo che personaggio interpreterà? Ha già pensato? No, l'ho pensato, però... Ha sorpresa? Gli ha sorpreso. E come faremo a riconoscere il signor Lorenzo? Stava canosci, ma che va? Ci riconosceremo? Vedremo, vedremo. Cosa sta preparando? Sto preparando il colore verde, c'è tutta la gamma sul verde perché voglio dipingere l'albero. L'albero dei pochi. Che tipo di... Ci sono colori acrilici, per dipingere la carta, perché loro dipingevano solamente con i colori ad acqua, l'acqua che si dipingono in muro, però ci vogliono i colori acrilici. Da quel tocco, quella tonalità che è diversa, è così. La verità, io sono un autodidatta, faccio i quadri, mi dopingi, ecco perché io... Bisogna anche saper miscelare le tinte giuste per ottenere i giusti colori. E allora, noi saremo presenti. Allora, per la sfilata è una... Noi saremo già riconoscibili perché telecamera e microfono, noi non ci vestiremo a maschere perché dovremo operare, ma siamo... Ci dobbiamo vestire a maschere, però ci dobbiamo conoscere. Beh, mi fa piacere. Senza della maschere. Senza della maschere, ma io sono una maschere. Prima di che mi dimentichi, una delle cose più importanti, siamo cresciuti in questi anni anche grazie alla pubblica assistenza di San Michele. Che realizza a sue spese e autonomamente due cose. La partecipazione con un carro alla nostra manifestazione. Quest'anno il carro avrà come tema la sicurezza stradale. Poi lo vedrete. Se venite, io spero che ci siate, lo vedrete. E poi organizza a sé stante l'atto conclusivo del Carnevale dei Ragazzi. Ma è a sé stante, cioè è organizzato totalmente da loro. L'apertura è dalla pentolaccia. E posso dire che questa pentolaccia è più grande di quella di altri paesi, non dico di dove se lo facciamo polemica. Pentolaccia che nasce grazie all'iniziativa di? Di Giovanni Dentico ed il Millennium. Sono sempre loro? E sono sempre loro. La pentolaccia è loro. Curano questa iniziativa. Curano totalmente questa iniziativa. E insieme a loro siamo cresciuti. Parlare di mascotte in questa sfilata, cosa significa? Significa essere il jolly. Quando si parla di Carnevale, quando inizia poi la sfilata, chi corre a destra, chi corre a sinistra. Quindi il jolly diventa un elemento indispensabile. Si deve mettere le scarpe alla ginnastica e deve correre da una parte all'altro, quindi deve vedere se ci sono i coriandoli, se la gente è contenta, le richieste, i vari gruppi che vogliono i coriandoli. Noi ci organizziamo diversamente perché i coriandoli se li distributiamo tutta una volta in piazza, allora la festa finisce là. Invece la festa viene prolungata durante il percorso, quindi abbiamo modo di organizzare diversamente questa manifestazione mettendo i coriandoli da parte per dare ai gruppi i vari sfughi che devono rappresentare durante il percorso. E l'anno scorso, una chicca dell'anno scorso, qual è stato il... C'è stato il... Cosa è stato il porcellino di Cistulli? Sì, il porcellino che ci è stato dato in adozione, in sostegno per poter completare il percorso tra un carro e l'altro, quindi... Questo porcellino? Questo porcellino, sì, ci siamo poi distribuiti diversamente come persone per poterlo portare, la fatica era dimezzata. Ecco, e ci ricordiamo l'anno scorso anche le persone sui balconi. Ah sì, bellissimo, e questo... Perfetto, mi hai ricordato una cosa importante. Un'altra caratteristica del carnevale di San Michele e dei ragazzi di San Michele è il lancio delle caramelle, dei fiori, addirittura latticini a forma di animaletto, che varie signoreci e altre persone, biscotti, biscotti anche di settembre e i latticini di... che ci siamo, lo diciamo, di sciscio. Questo è un simbolo, è simbolico questa cosa ed è bellissima. E' cominciata così, una signora, la signora Paciolla, ha cominciato la prima volta a lanciare dei fiori, delle caramelle. Signorine, signorine, è giusto, è giusto, anche se adesso non si dice più. E io vorrei che questo simbolo, questo atto simbolico, diciamo, lo si potesse distribuire per tutto il percorso. Cioè, quindi, invito tutte le persone che assistono, tutte, a chi vuole, ovviamente, invito a, diciamo, a continuare, a unirsi a queste persone e alla via di gioia, alla via, piuttosto che in centro, che è alla via della stazione, eccetera, possano lanciare caramelle, qualsiasi cosa che ci possa... fiori, diciamo, mazzetti di mimosi, in questo periodo cominciano a fiorire le mimose, facessero... perché lo rendono ancora più bello, è unico nel circondario. L'importante è che siano questi oggetti, ecco, dalla... Sì, sì, e non lancino altro. Potevano collaborare lanciando dei petali, insomma, dei fiori, qualche caramella, ma qualcosa di leggero, non è... Sicuramente leggero, non è... Perché io immagino c'è il carro... Sì. ...della raccolta differenziata, e quindi se la sera precedente, il giorno dopo l'umido... Approfitto. ...l'organico non sarà raccolto... Tu dici... ...e non vorrei che qualcuno vede il cartà, un lancino dal balcone... No, non si deve fare questo. Non si deve fare, c'è questo rischio. No, cioè, questo non ci deve essere. Non ci deve essere questo rischio, ma siamo a carnevale, tutto può succedere. No, speriamo di no, perché noi staremo sotto poi a fare le riprese. E se sbagliano la mia... No, 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 solo caramelle... Allora, faccio un appello. Solo caramelle, fiori e taralli. Va bene così? E pasticcini anche di... Vabbè, e se uno vuole mostrare un sorriso dal balcone... Sì, sicuramente. ...fuole far con la manina... Quello che più ci dà... Possono interagire, dire qualcosa. Sì, sicuramente. Cioè, il carnevale dei ragazzi di San Michele è un carnevale partecipativo. Non si assiste. Tutti possono partecipare. Quando? Vi aspetto il 26 febbraio. Dove? A San Michele di Bari, in piazza Vittorio Veneto. Ore 14.30, 18.30. Questa è... Massimo 19.00. Il percorso? Il percorso è il solito. Partiamo dalla piazza, andiamo verso la stazione, giriamo vicino al girasole, ritorniamo su via Bari, ritorniamo in centro, andiamo verso la via di Gioia. I San Michele lo sanno, sanno di che cosa parlo, e ritorniamo poi in piazza. In piazza poi ci sarà qualcuno che li farà ballare, i ragazzi, i bambini, i adulti, spero anche a molti adulti. E la classica ormai, pentolacce della pubblica assistenza, di Edil Millennium e Giovanni Identico, che chiuderà la serata. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti.